State per ascoltare una nuova, unica e credo accurata rivelazione che spiega il marchio della bestia. Posso dire che non ho mai sentito prima una cosa del genere. Esiste una dimensione sovrannaturale, un mondo al di là di quello che conosciamo. Esiste la vita dopo la morte. Esistono gli angeli? I nostri sogni contengono messaggi dal cielo? Possiamo attingere dalla conoscenza di antichi misteri sovrannaturali? I miracoli di guarigione sono una realtà? Sid Roth da 35 anni si occupa della ricerca nel misterioso campo del sovrannaturale. Unitevi a lui in questa edizione. È sovrannaturale. Salve a tutti, sono Sid Roth e benvenuti nel mio mondo che è naturalmente sovrannaturale. Ci sono dei fenomeni soprannaturali, molto strani, che stanno succedendo nel mondo. Ho chiesto all'amico L.E. Marzulli la sua opinione. Lui ha passato gli ultimi due anni della sua vita a studiare questi fenomeni. Molta gente legge i titoli dei giornali ma non capisce la serietà di questi fenomeni e a che cosa puntano i loro segni. Per esempio, avete notato l'incremento dei terremoti, dei maremoti, i tragici eventi, il cambiamento delle stagioni, buche che si aprono misteriosamente. È stato riportato che ci sono dei suoni che provengono dal centro della Terra che sono molto inquietanti. Sono stati verificati i rapimenti da parte di alieni, mutilazioni di bestiame, mutilazioni sovrannaturali non fatte da uomini che sono impazziti. Sono stati scoperti nelle scritture dei codici misteriosi che predicono il futuro, il mistero del marchio della bestia. L.E. Marzulli, posso capire perché Dio ha scelto te per fare questa indagine? Perché hai un'educazione cattolica? Ma non aveva mai visto delle cose sovrannaturali, quindi cosa successe quando vide il primo evento sovrannaturale? Lui pensò che fosse Dio, ma non lo era, era il demonio. Fu coinvolto nel movimento della New Age e diventò abbastanza altolocato con i Maharajah. È stato in un ashram e lui faceva parte dell'orchestra Maharajah, fece una tornée in dieci città e poi il suo movimento diventò molto famoso e si esibirono a Houston, nel teatro Astrodome. Per quale scopo siete andati al teatro Astrodome? Era per radunare tutti i devoti del Maharajah nel teatro Astrodome. Sarebbero dovute venire centomila persone, ma ce n'erano solo ventimila circa. Quell'evento si chiamava il millennio. Si diceva che sarebbero avvenuti degli avvenimenti che avrebbero cambiato la vita della gente. Per quanto mi riguarda, quell'evento cambiò la mia vita perché, quando ero sul palco con l'orchestra, vidi qualcosa che mi suggerì che forse quello che vedevo non era quello che pensavo fosse. Che cosa vedesti esattamente? Era una cosa che non avevi previsto, ma hai avuto una rivelazione che c'era qualcosa che manipolava la gente. C'era una piattaforma che era il palco e dietro al palco c'era una pedana. La Santa Famiglia era su questa pedana. Il guru era sulla parte più alta della pedana. E' successa durante la funzione serale. Il pubblico stava applaudendo, c'era molta energia nel pubblico. L'orchestra suonava, il pubblico acclamava. Il guru entrò con un'enorme corona sul capo. Mi ricordo che il mio amico mi diede una gomitata e mi disse, guarda dietro di te. Io diedi un'occhiata dietro di me. E vidi i membri di questa così chiamata Santa Famiglia. La madre, alcuni fratelli e il guru sulla parte più alta della pedana. E mentre li guardavo, non ho parole per descriverlo, non so esattamente come dirlo, ma loro non mi sembravano completamente degli esseri umani. Sembravano umani, ma da loro emanava una forza. Non riuscivo a determinare se fosse una forza benevole o malevole. Ho solo visto questa forza ed era una cosa sconcertante. Bene. Così hai lasciato quell'organizzazione e hai deciso che ne avevi avuto abbastanza. Ti sei cercato un lavoro, poi hai letto questo libro. Racconta brevemente di questo libro che hai letto. Raccontacelo. Beh, in quel periodo il mio viaggio spirituale era un punto fermo. Non riuscivo a sbloccarmi, ero in cerca di qualcosa. Avevo trent'anni e stavo leggendo un libro di David Hunt intitolato L'esplosione del culto. Poi ho letto il libro Il controllo della mente con il metodo Silvia. Poi ho letto il libro East. E ho fatto delle ricerche su diversi guru. Ho fatto delle ricerche in questo genere di cose. Dietro la copertina del libro c'era una preghiera. Ero da solo nella stanza, non c'era nessuno alla televisione che mi esortasse ad accettare Yeshua come Signore Salvatore. Niente di tutto questo. Ho solo letto questa preghiera e dissi, non so se sei reale, ma se lo sei entro nella mia vita. Mi guardai intorno e aspettai, ma non successe niente. Ho avuto la stessa esperienza. Pensai questo. Non ha funzionato. Forse funziona per qualcun altro, ma non ha funzionato per me. Che successe? Circa un mese dopo mi svegliai dopo aver avuto un incubo. Ero sconvolto. Quell'incubo mi scosse profondamente. Mi svegliai gridando. E quello fu l'inizio. Cominciai a lasciare il regno dell'oscurità o i movimenti dell'occulto che stavo seguendo e cominciai a muovermi in un'altra dimensione o in un altro paradigma. Come ho detto prima, tu come me avevi pensato che Dio non aveva sentito quella preghiera perché non sentimo niente, non vedemmo nulla. Ma Dio sentì la preghiera. Successe la stessa cosa nella mia vita. Lo Spirito di Dio inondò la mia stanza. Non sono mai tornato indietro. Non capisco quelli che lo fanno. Ma io credo, Elemar Zulli, che la gente che si trova nel lato oscuro, faccia una tremenda esperienza di trasformazione. Forse come Saulo di Tarso, che poi divenne l'Apostolo Paolo. Abbiamo come un presentimento soprannaturale per il demoniaco. Sappiamo istintivamente se una cosa è del demonio o è da Dio. Trovi che ora succede questo nella tua vita? Assolutamente. Tutto quello che faccio, tutte le mie ricerche investigative, io le faccio per capire cosa sta succedendo. Per esempio, se qualcosa si manifesta. Cosa voglio dire per manifestarsi? Quello che è successo in Cairo circa due anni fa, su una chiesa copta. C'erano queste figure di luce. Fui sopraffatto. In tutta la città non c'era la corrente elettrica, ma anche se non c'era la corrente, queste entità di luce apparvero su questa chiesa copta e si verificò per quasi due settimane. Miglioia di persone andarono a vedere questo fenomeno, ma nessuno si chiese chi erano questi spiriti, nessuno si chiese che cosa sono queste luci. Tutti davano per scontato che erano spiriti benevoli, ma non è così semplice. Quando torneremo, vorrei che Marzulli parlasse di questa gente che è stata rapita da oggetti volanti che vengono chiamati UFO. Vorrei sapere che cosa pensa di questi fenomeni. La cosa incredibile è che mettono degli impianti chirurgici nella gente. Lui ha parlato con un dottore che ha rimosso questi impianti e ha delle informazioni straordinarie. Quindi non andate via, non andate via. Tra qualche istante torneremo a È Soprannaturale. Il programma che stai seguendo è reso possibile grazie alle tue offerte che mese dopo mese ci permettono di realizzare sempre più nuovi programmi per raggiungere i lontani col messaggio del Vangelo di Nostro Signore Gesù. Torniamo ora a È Soprannaturale. Salve, sono Sid Roth in compagnia di El E. Marzulli. Sono molto incuriosito dalle persone che sono state intervistate e che dicono di essere state rapite. Raccontami di questo dottore con il quale hai parlato, il dottor Lear, un chirurgo. All'inizio lui era uno scettico su questo fenomeno. Racconta. Un amico chiese a Lear di andare a visitare il suo paziente che diceva di avere una specie di impianto chirurgico sotto la sua pelle. E subito Lear pensò che era un pezzo di filo o qualcosa che gli era successo quando era bambino. Ma quando scoprì che quella persona diceva di essere stata rapita dagli alieni, scosse la testa e se ne andò. Non voleva avere niente a che fare con quel genere di cose e chi lo può biasimare. Quindi se ne andò riluttante. Fu persuaso a ritornare, guardò le radiografie e vide qualcosa. Decise di operare e rimase assolutamente stupefatto quando scoprì che era un piccolo impianto metallico. Questo ovviamente è un ingrandimento. Questo è il polso. Egli trovò una secrezione e una membrana. Cercò di tagliare la membrana con il bisturi ma non ci riuscì. Prese una pinza e strappò via questa cosa. E da allora ha trovato circa 16 oggetti come questo. Qualche volta li tira fuori in due o tre pezzi. Quando mise i vari pezzi a due centimetri di distanza nella piastra di petri con il sangue del paziente, dopo 24-48 ore, scoprì che i pezzi cercavano di riunirsi. Ma com'è possibile? Questi impianti emanano una velocità di frequenza che è uguale a un'onda a dente di sega. È un'onda come quella dei computer. La velocità però è di 300 GHz. 100 volte più veloce di qualsiasi computer che c'è su questo pianeta. E dentro questi oggetti ci sono dei nanotubi di carbonio che non si trovano in natura. E ci sono altri elementi. Non abbiamo nessuna idea di quale sia la loro funzione. Non sappiamo a cosa servono. E quando l'ho chiesto a Lear, gli feci questa domanda. Potresti darmi la tua opinione professionali. E lui disse, oh, ma questi sono per cambiare il DNA. Avete sentito? Servono per cambiare il DNA delle persone. Questo va oltre i robot. Va oltre ogni film di fantascienza che abbiamo visto. Ma da dove vengono? Ci sono davvero i dischi volanti? Racconta. Di solito vengono date due spiegazioni. Una è quella degli extraterrestri. Ci sono delle entità che provengono dal sistema stellare Pleiadi o un altro sistema, che vengono a farci visita. Sono i nostri padroni. E io nomino questo il grande inganno. Hanno creato la vita sulla Terra, le specie viventi, hanno manipolato geneticamente i primi esseri umani, hanno iniziato la civilizzazione e sono tornati in questo momento critico della storia per guidare gli esseri umani in un'era di pace, prosperità e conoscenza. La gente che crede nella fantascienza crede in questo. Sì, è quello che crede la New Age. Ma qual è la tua opinione? Io penso che sono esseri interdimensionali e che sono molto malevoli. Sono funesti, sono cattivi, hanno un programma. E questo ci porta a quello che si legge nel libro della Genesi. Genesi 6. I figli di Dio, gli dèi, gli angeli caduti che videro le figlie di Dio e le scelsero come mogli. Gli ibridi erano i nefilim. È molto interessante quello che Gesù disse. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Così come fu ai giorni di Noè, ma come mai ci parla dei tempi di Noè? Perché successe qualcosa di diverso da tutti gli altri periodi storici, cioè la presenza degli angeli caduti che si manifestano apertamente sulla Terra. E penso che ci stiamo avvicinando a questi giorni. Tu hai fatto delle indagini, ma non penso che ci sia stato sul pianeta Terra un periodo dove si vedono così tanti fenomeni soprannaturali. Ma molti non hanno visto il bene o il male, Dio o il demonio. Quindi si stanno preparando per essere ingannati. C'è un'altra cosa che mi incuriosisce immensamente, ed è la scoperta dei codici della Torah. Spiega brevemente cosa sono. In breve è il codice Torah 101. Se prendiamo il libro della Genesi scritto in ebreo e fai un calcolo equidistante delle lettere, lo puoi fare manualmente. Ogni 50 lettere si legge la parola Torah. È incredibile. Sì, è vero. Ho intervistato un uomo che conosce i codici della Bibbia. Gli chiesi di farmi una dimostrazione. Gli dissi, trova il mio nome. Controllò il mio nome e rimasi scioccato. Non solo trovò il mio nome e il nome è sovranaturale, ma anche trovato il cognome di mia moglie, che ha un cognome particolare e non ha mai conosciuto nessun altro con questo cognome, a parte sua madre. Ed è una cosa incredibile. Era nei codici della Bibbia. Io credo in queste cose. Recentemente hanno trovato anche il nome del Presidente Obama nei codici della Bibbia. Dove l'hanno trovato? Lo hanno trovato in Ezechiele capitolo 38. Ezechiele 38? Sì, sì, Ezechiele 38. Hai letto i titoli dei giornali ultimamente? Sì, assolutamente. Senza alcun dubbio. Mi piace parlare di questo. Lo puoi fare senza usare il computer. Non hai bisogno del computer per appurarlo. Devi solo prendere Ezechiele 38. Se sai leggere l'ebreo c'è la parola Obama. E in quel versetto, se si tiene conto di tutto quello che sta succedendo ora, c'è il nome del Presidente Obama. Sì, è assolutamente incredibile, è bizzarro. Lui naturalmente ora è il Presidente e noi vediamo gli eventi che succedono in tutte queste nazioni. Ricordati che questa profezia è rimasta lì a raccogliere polvere per 2600 anni e improvvisamente in quest'era in cui ci troviamo vediamo Israele che si riunisce dai quattro angoli della terra per ristabilirsi nella sua terra nativa. È una vera nazione che vive senza muri o cancelli. Niente di tutto questo. Praticamente vivono al sicuro. Lo sai che cosa è incredibile? I codici della Bibbia hanno predetto il futuro e quegli avvenimenti si sono avverati. Quando torneremo? Non andate via. Tra qualche istante torneremo a È soprannaturale. Egli infatti è la nostra pace, il quale ha fatto dei giudei e dei gentili un solo popolo e ha demolito il muro di separazione. Perché voleva creare in se stesso. Creare in se stesso. Perché voleva creare in se stesso un solo uomo nuovo. 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 Torniamo ora a È soprannaturale. Salve a tutti. Sono Sid Roth in compagnia di Ele e Marzulli. Stiamo parlando dei codici della Bibbia che sono affascinanti. Ma se prendiamo un altro libro famoso come per esempio Guerra e pace e cerchiamo delle profezie usando i codici biblici, che cosa troveremo? Non funziona. Semplicemente non funziona. Non è la stessa cosa. Ci sono delle cose che predicono il futuro. Per esempio il primo ministro di Israele, Rabin. Racconta di questo. Ci fu un codice biblico con il nome Isaac Rabin. Un gruppo di lettere dicevano Yitzhak Rabin assassinò. Sarà assassinato. E questo successe prima dell'evento. E la cosa più incredibile fu che qualcuno andò dalle autorità israeliane, ma loro naturalmente non prestarono nessuna attenzione a questo. Parlaci delle predizioni bibliche che dicono che ci saranno dei segni nel cielo. Elencane alcuni. Ci sono degli oggetti intorno al Sole. La NASA li ha censurati dalle immagini che riceve dai satelliti gemelli SOHO. Censurati vuol dire che sono state rimosse alcune ore prima che i ricercatori le guardassero. Perché? È una bella domanda. Non so cosa rispondere. Dide la Luna. Abbiamo guardato i film su YouTube da tutto il pianeta che riprendono la Luna. Filmano la Luna e dicono non sono un astronomo, ma quando guardiamo questo pianeta pensiamo non è dove dovrebbe essere. La Luna sembra diversa. Se lo dice solo una persona non ci fai caso. Ma da tutto il globo la gente nota lo stesso fenomeno. Quindi io e il mio collega, Richard Shaw, abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo scoperto una relazione scritta da uno scienziato italiano, Lorenzo Iorio. La relazione si intitola l'elettricità sulla superficie della Luna. Lui pensa che ci sia un grande pianeta che si sta avvicinando al sistema solare e forse per questo motivo la Luna si sta comportando in modo stravagante. C'è un codice della Torah che riguarda la Luna in un anno particolare. Spiegalo. Il codice della Torah è molto interessante. Quando stava succedendo questo il mio collega Richard Shaw scrisse al rabbino. Lui usò il codice biblico ed esso rivelò la Luna verrà osservata durante il giorno. Era il 2011. Anomalie sulla superficie della Luna verranno notate nel 2011. Quindi il codice biblico confermò quello che stavamo investigando. Per me questo è assolutamente affascinante. El E. Marzulli ha una spiegazione per il marchio della bestia che non ho mai sentito prima e penso che sia vera. Penso che quello che stai per rivelare verrà ricordato nella storia. Raccontacelo. Forza. Certamente. Grazie per avermi dato la possibilità di farlo. In Matteo 24 Gesù enuncia. Come fu ai giorni di Noè così sarà la venuta del figlio dell'uomo. L'ho menzionato prima. Quello che successe in quei giorni fu la caduta degli angeli. Ma ci sono altre cose in quei versetti che sono state trascurate. Una di queste è che la gente viveva 5, 6, 7, 8, 900 anni e io credo che questo sia vero. Vivevano 900 anni. Tenendo questo in mente nel libro dell'Apocalisse c'è scritto nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Poi scopriamo che a tutti quelli che hanno questo marchio qualunque cosa esso sia appariranno delle piaghe sul corpo. Poi ancora nel libro dell'Apocalisse c'è scritto che tutti quelli che hanno questo marchio verranno immediatamente gettati nel lago di fuoco senza condono e senza pietà. Se hai il marchio della bestia bam sei nel lago di fuoco. Non sono le mie parole sono le parole di Gesù ed è scritto nel libro dell'Apocalisse. Più in là leggiamo qualcosa che non riguarda necessariamente il marchio della bestia ma questo è il compromesso. C'è scritto in quei giorni gli uomini e le donne cercheranno la morte ma non la troveranno. Come è possibile? Ho tenuto il chip nella mia mano e ho chiesto al dottor Lear a cosa serve questa cosa? Serve per cambiare il DNA. Useranno questo chip per farlo. Questo è il chip. Impiantato la gente rapita? Sì giusto questi sono i primi contatti. A proposito questo dottore ha pensato che queste persone non siano sanamenti? No no assolutamente no tutte queste persone che sono state rapite molte di loro direi il 90% non vogliono essere riconosciute vogliono rimanere anonime non sono interessate a nessuna forma di notorietà vogliono solo liberarsi di quella cosa. E come mai gli Stati Uniti non rivelano le informazioni che hanno sugli UFO e le altre nazioni non fanno lo stesso? Beh le altre nazioni lo hanno fatto la Grecia il Regno Unito la Francia il Belgio la Germania il Giappone il Messico il Brasile hanno tutti rilasciato dei documenti che una volta erano top secret. L'America non lo fa e penso che la ragione sia semplicemente questa hanno paura di una reazione religiosa negativa e per motivi religiosi cosa succederebbe se improvvisamente tutta la gente si rendesse conto che il dio nel quale tutti credevamo non esiste questo è quello che io chiamo inganno credo che è stato orchestrato da milioni di anni va bene ritorniamo al cambiamento del dna perché qualcuno dovrebbe farsi mettere un cibo? Posso farti un esempio supponiamo che ci sia una guerra nel medio oriente una specie di guerra nucleare questo è solo un esempio quindi c'è una guerra nucleare nel medio oriente o forse in america e improvvisamente appaiono ovunque degli ufo in tutto il pianeta. Come reagirà la gente? Che effetto avrà questo sulla popolazione? Troveranno due soluzioni energia gratis e un chip e questo ci riporta a quello che è stato enunciato in Matteo 24. Offriranno questo impianto e quando lo ricevi diventerai un membro del nuovo ordine mondiale e in questa cosa ci saranno i tuoi dettagli medici e essa cambierà il tuo dna ci diranno che correggerà il dna umano. Quindi vivrai più a lungo? Vivrai fino a 500 anni senza ammalarti. Oh chi dirà di no? Solo quelli che conoscono il Signore sono loro. Esatto. Si capisce come mai loro sono i nemici del Signore? Assolutamente verremo considerati come l'uomo di Neandertal. Come fai a essere così ridicolo e credere a questo mito di un Dio giudeo cristiano. Perché non ti metti questo chip e vivi senza ammalarti per 500 anni? Sembra una cosa fantastica. Io l'ho avuto nelle mie mani e penso che succederà questo. Questa è la sola cosa che aderisce a ogni criterio su quello che è scritto nel libro dell'Apocalisse. È interessante vedere tutto quello che sta succedendo in questo periodo. Le nazioni che stanno insorgendo contro Israele e il nome di Obama si trova nel codice biblico. Questo mostra che la venuta del Messia è vicina. Dimmi della visione del rapimento che hai avuto, perché ci dà una speranza piena di benedizione. Raccontaci di questa grande visione. Ti ascoltiamo. Non l'ho prevista in nessun modo. Mi stavo preparando per fare la doccia, quindi non ho fatto come l'ospite che hai avuto prima che aveva digiunato e pregato. Non ho fatto nulla di tutto questo. Mi stavo solo preparando per fare la doccia. Non ero nel mio corpo o fuori dal mio corpo, come disse Paolo. So solo che sono stato afferrato e mi sono trovato in una scena paradisiaca. Sono rimasto lì tre secondi. Un secondo, due secondi, tre secondi, bam, sono ritornato. Durante il primo secondo mi sono guardato intorno. Non eravamo schiacciati come sardine. Fra me e le altre persone c'era uno spazio di 80 o 100 centimetri. Durante il secondo secondo ho sentito un silenzio pieno di riverenza che impregnava l'intera scena. Non si sentiva cadere un ago, nessuno parlava, nessuno si chiedeva dove sono. Niente di tutto questo. Tutti sapevano esattamente quello che stava succedendo. Era un santo silenzio. Non ho nemmeno le parole per descriverlo. Un silenzio santo pieno di riverenza. C'era un'immobilità incredibile. Durante il terzo secondo ho sentito con assoluto stupore che la mia natura è peccatrice. E con questo voglio dire tutte le piccole cose che facciamo con cattiveria, che saltano fuori anche se non lo vogliamo e che ci fanno arrabbiare, ci fanno sentire amareggiati, qualsiasi cosa sia. Tutto questo era sparito. Ero libero e questo è successo in tre secondi e bam. Quando sono tornato mi sono messo a piangere. Voglio dirti una cosa, una cosa che non mi è mai successa prima, ma alcuni giorni fa, prima dell'intervista, ho fatto un sogno e io in questo sogno dicevo Gesù sta arrivando. Gesù, l'ho detto tre volte, Gesù sta arrivando. E lo dico anche a te. Gesù sta arrivando. Sei pronto?